Il sindaco di Angri Pasquale Mauri ha tanta fretta di cambiare lo statuto cittadino? Quale maggioranza legge l'amministrazione del sindaco Mauri? Su quali argomenti il sindaco si è scontrato con i consiglieri comunali dissidenti? E su quali invece ha trovato accordo con quelli di opposizione che attualmente lo sostengono? Queste sono alcune delle domande poste da sinistra Ecologia Libertà di Angri all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Mauri attraverso un pubblico manifesto. Domande ed interrogativi che si sommano a quelle rivolte ai consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione durante una conferenza stampa. Questo momento che anticipa il consiglio comunale di mercoledì per rivolgere una domanda diretta secca ai consiglieri comunali. Quale maggioranza sta raggendo questo sindaco? Che progetti, che cambiamento di programma ci sono rispetto a quell'elettorale presentato un anno e mezzo fa? E con quale proposito si intende proseguire questa amministrazione? La facciamo direttamente ai consiglieri comunali perché quello che si registra, quello che abbiamo capito da quello che accade in questi ultimi mesi è che c'è una profonda crisi istituzionale tra sindaco, consiglio comunale, presidente del consiglio comunale e questa è una crisi che non ci possiamo permettere. Non ci possiamo permettere perché l'Italia, l'Europa e la nostra città è chiamata ad affrontare problemi molto seri nei prossimi giorni neanche mesi o anni, ma proprio nei prossimi giorni. E sotto gli occhi tutti la difficoltà di andare avanti. E in questa difficoltà è necessario che ci sia un'amministrazione forte, che ci sia un consiglio comunale consapevole. È importante. Se ci sono queste condizioni, adesso devono uscire fuori, devono saltare fuori, devono essere chiare, evidenti. Se non ci sono, altrettanto deve essere chiaro che non ci sono le condizioni per poter avere un'amministrazione forte o un consiglio comunale forte.